Certo che per Daniel e questi qua, gli aiuti li abbiamo eh! Salve a tutti ragazzi, bentornati da NU! Veniamo da due gare straordinarie qui su F1 2019, la prima è Spa e poi soprattutto direi Monza, l'ultima. Con strategia super vincente, NU hacker convinto e deciso. E alla fine ci portiamo a 52 punti su Verstappen e addirittura seppur in solitudine accorciamo nel Mondiale Costruttori. Ma non può sempre andare tutto bene, prima o poi ad esempio succede di correre a Singapore. Che è un circuito di cittadino ottimo per le qualità della Red Bull che infatti piazza tutti e due i piloti in prima fila con Verstappen in pole position. L'ultimo che ci doveva andare perché oggi proveranno a rimontare parecchi punti, proverà Verstappen poi nel Mondiale Costruttori è già davanti. Ma io quello lo dico ma non lo guardo perché tanto Ricciardo come vedete non è segnato nella classifica costruttori ma le due vetture senza punti ancora sono l'Alfa Romeo e quella c'è scritta. Ma anche la Fiat Palio Weekend di Ricciardo che non ha neanche pagato per comparire in classifica. Ferrari saldamente al quarto posto delle vetture con la Haas che sembra sempre un po' più forte. Renault, Red Bull e Ferrari sono abbastanza insieme però poi dipende dalle piste come abbiamo visto. Chiaramente notando le due Red Bull davanti a tutti non abbiamo detto che al terzo posto c'è proprio Numaker che apre la seconda fila e che ha veramente troppa benzina a bordo. Oggi dovremmo attenerci alla strategia del muretto poi vediamo, valutiamo col passare dei giri. Grande partenza di Numaker, che spunto! Eeeh Bagasli è furbo! Si butta improvvisamente a destra andando un po' a chiudere non so quanto regolarmente il tentativo di Numaker che rimane a bocca asciutta deve essere anche un po' cattivo su... Era un Haas, perché c'era Haasel? Beh forse perché effettivamente è andato dietro. Abbiamo perso anche la posizione su Hamilton. Ghastli che ha il compito di proteggere evidentemente Verstappen. Ci è chiaro da subito questo. Ciao guarda Ghastli ha preso una forata di vento. Sono lui. O almeno è sembrata una mossa un po' maligna eh. Mandali non lo era. I miei commenti sono sempre a caldo, poi bisognerebbe vedere i replay, infatti voi quelli importanti li vedete. Vedete anche un Numaker che fa un po' fatica a far fare le curve alla sua Ferrari e tra l'altro per fare un assetto in grado di girare abbiamo dovuto sacrificare l'unico punto di forza che abbiamo ovvero il motore. Pensate un po' quanto ci piace questa pista. Buona qua la prima infilatina di Numaker. Vediamo dovremmo riuscire a rimanere perlomeno in zona di RS con Hamilton. gestire un po' il tutto qua nel migliore dei modi e sperai di avere una chance. Consapevoli che purtroppo le Red Bull sono veramente avvantaggiate qua. Perfetto! L'assetto per fare meglio le curve e non fare le curve. Non è un caso che Hamilton con l'ottima Renault perda comunque qualcosina. Ma con Hamilton dobbiamo vedere di imbastire qualcosa però eh ragazzi. Adesso va bene tutto ma con la Renault possiamo vedercela oggi. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Ma meno male. Mancano solo altri scassamaroni guarda. DRS. Pompiamo allora. Eh però aspetta perché Gasly in realtà lì ha un po' mollato Verstappen. Hamilton gli si è agganciato. che non è neanche malissimo come cosa a patto che poi se Gasly è lenta dobbiamo passarlo però anche noi. C'è una nuova strategia disponibile sul TMF. Sì perché tanto Gasly sta producendo wax. Spero che facciano un po' di capricci Gasly e Hamilton perché altrimenti io non riesco a stare attaccati. Mannaggia. Più che altro ragazzi ho un déjà vu ho un crollo immediato maledetto della gomma. Cioè è già così. Cioè mi fa già schifo. È possibile? Forse per quello che abbiamo una nuova strategia sul DMF. male male. La Ferrari secondo me è una massacratrice di rossa in questa pista. ovviamente equiparando ai migliori perché su quelli dietro stiamo facendo una gran gara. Il problema è che c'è un podio davanti che si allontana. Verstappen soprattutto imbarazzante. Ok il distacco è no. Ma vabbè ragazzi cioè io spero che voi non abbiate aperto questo video sperandoci perché questa pista io la cancellerei dal calendario. Ma so che è un sentimento un po' condiviso anche con voi. Ogni volta che arriva a Singapore partono gli insulti alla pista pure nei commenti quindi evidentemente non è un problema solo mio. a parte il fatto che ci sono veramente pochi punti che mi piacciono non lo so non verstappen è al comando il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,7 secondi secondo me ce l'hai registrato è a 5,7 in ogni pista ok mi ha fatto un punto del domani ma non è un distacco dai madonna attaccatevi un po' che Neumacher è alla ricerca di un podio che ormai ha le sembianze di un sogno ragazzi io devo andare ai box devo andare ai box cioè mi fa schifo sta gomma non va più mi raccomando fermati ai box ah ok ok mi pareva strano mi stanno recuperando la dietro mi stanno recuperando non si guida più attenzione al traffico vi prego dai hanno fatto passare prima Hulkenberg e Russell che si sono fermati dietro attenzione ho Hamilton dietro super traffico anche per lui super traffico perché Hamilton era un secondino anche uno e mezzo eh c'è sempre chi sta peggio vedete alle gomme adesso devi finire la gara con il questo che sta open in testa ai 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 quindi Gasly Gasly ora è al comando ma dobbiamo vedere intanto abbiamo guadagnato una posizione in maniera miracolosa su Emco il carburante il carburante al target più non puoi passare a giri del motore superiore sì peccato che sia l'ultimo rimasto bisognerà valutare Gasly assolutamente perché ora abbiamo avuto del traffico noi ma non sappiamo se lui potrebbe averne di peggiore o di migliore sicuramente Hamilton non ha intenzione di rimanere là se andava forte prima sarà convinto di andarci pure adesso allo stesso modo Rumaker vorrà pensare di provare a stargli davanti in questo nuovo stint con questa nuova gomma oddio mamma mia sta Ferrari mi prego no queste piste cambiate macchina Ricciardo si ferma lui Daniel è appena rientrato ai box Daniel ai box ma è irrilevante molto aggressivo Numaker eccolo la Gasly è appena uscito ha guadagnato un botto su Hamilton che è quello che ha perso più di tutti l'abbiamo già detto ci stava decisamente davanti eh l'ho visto prima volta che fa sto commento in maniera intelligente Alex cioè nel momento opportuno più che altro è rientrato e l'ha detto di solito quella notazione è sempre inutile allora in questo momento quindi noi il podio che speravamo di acciuffare di fatto lo stiamo acciuffando eh ora bisognerà vedere quanto sarà d'accordo Hamilton a lasciarcelo si è incollato mamma mamma sembra sempre di farsi del male in sta pista stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti ma ricordiamo che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme ah perché c'è del traffico c'è del traffico davanti a Gasly attenzione ma peccato proprio qua sul rettilineo adesso se li mangia Hamilton comunque è un po' sorpreso da quel sorpasso nei box è rimasto dietro Gasly a questi rimanici ancora un po' rimanici ancora un po' eccola che comincia di nuovo a sbarellare la macchina come se avessi già di nuovo consumato le gomme è una roba pazzesca non so spiegarvela anzi se qualcuno sa spiegarla a me grazie attenzione ragazzi giovinazzi torna all'attacco stavolta la vittima è Gasly stiamo attenti però perché adesso forse giovinazzi tipo si fermerà però ci ha consegnato Gasly grande Antonio non entra non entra e addirittura noi dobbiamo inchiodare sono troppo lenti ci prova adesso Gasly ci prova anche Nuhaker subito foragli una gomma no giovinazzo porca boia eh calla eh calla no c'ha il DRS pure lui è veloce l'aveva fatto tutto bene però poi deve togliersi dalle palle no ragazzi non è possibile così porca puttana giovinazzi dove dove non è vero non l'ho toccato ma non l'ho toccato di niente però eh sempre lui adesso stai lì con Hamilton bravo 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 è solo che adesso chi lo piglia più Gasly ormai se è liberato si è lanciato ma perché perché dico io certo che tra Daniele questi qua che aiuti che abbiamo eh mamma mia ragazzi giovinazzi sta tappando brutto anche dietro eh oh si è fermato finalmente però forse ci ha tolto hai raggiunto il quinto posto beh ci sarà ancora qualcuno da fermarsi abbiamo guadagnato del buonissimo tempo su Hamilton grazie a giovinazzi grazie 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 a giovinazzi il distacco dalla vettura davanti è 1,7 secondi eh non lo so però adesso giovinazzi da giovinazzi toglie ci aveva bloccato Gasly poi però l'ha fatto riandare via e vabbè ragazzi Hamilton è lì ma dobbiamo portarla a casa in qualche modo anche soffrendo accettando un po' quella che è una condizione di inferiorità rapportata a questo circuito oh magari arrivandoci però alla fine è al comando Kubiz è al comando ah come attenzione qua cos'era quella bandiera Russell fai attenzione c'è la virtual safety car riduci la velocità e mantieni positivi delta abbiamo risparmiato un po' con sta virtual il distacco dalla vettura che ti precede è 2,5 secondi eh vabbè ma direi che è impossibile riprenderlo se non succede qualche altra cosa Hamilton attenzione perché si è un po' risentito di Giovinazzi e si è rimesso un po' spingere attenzione alle gomme non dimenticarti dello stato delle gomme distacco dall'auto dietro 2,0 secondi ecco cioè praticamente è qui vicino a Hamilton di Gasly eh sì assolutamente sì direi abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri sì aspetta adesso qua alla fine del rettilineo se no facciamo danni continuo a crederci Hamilton il maker concentrato affronta i suoi settori più da incubo con sta macchina sempre col muretto che ti minaccia troppo vicino se arriva Lewis non credo che abbiamo i mezzi per lontanere il distacco dal tuo compagno dietro di te è 7,8 secondi sì ma perché noi stiamo facendo cagare anche noi oggi chissà che posizione è lui mamma mamma ti giuro non dovrà che finisca sta gara mi mette a disagio misaggio a quello serio attenzione perché Hamilton ha Leclerc dietro alla fine i due Mercedes arrivano qua dietro ok il distacco è 3 no ma che cazzo spegni il motore spegni il motore difetto quanto sottosterzo vuoi avere quanto cazzo ne vuoi avere di sottosterzo ma che replay in flashback riavvia ma subparati in culo che macchina di merda campionato intero con la McLaren non ho preso un muro neanche me neanche un marciapiede così non va bene però ragazzi così non va bene perché sta pista non mi starà mai simpatica così mi farà sempre più schifo vabbè tornando seri ci ricomponiamo non importa succede non è la prima volta che ci capita certo nel 2019 sì andiamo a vedere che fine abbiamo fatto ritiro per Neumacher che sicuramente avrà causato una safety car tutti che rompono il cazzo con le foto voglio vedere chi ha vinto Verstappen sicuramente ovviamente non può aver fatto 52 punti però dai questa è una mazzata ragazzi per i costruttori è una mazzatissima 70 punti ne fanno 40 Verstappen no aspetta forse un po' meno perché Ricciardo è arrivato ottavo quindi un paio li fa incredibili Ricciardo fa un paio di punti quando noi ci sbattiamo nel muro ancora 27 di vantaggio su Verstappen non è allarmante per come sta andando le cose però mi sta sulle palle perché questa pista così a me non scenderà mai scusate per i 30 secondi di sfogo naturale un po' la Rosberg a Spa 2016 anche se lì era diverso ovviamente se ci sono cose inopportune le taglierò però vabbè dai guardiamo il lato positivo Verstappen di nuovo a 27 punti se proprio vero quello che ho detto ma se dovessi scegliere una pista in cui ritirarmi come ho sempre detto preferisco non fare questa ecco veniamo da una doppietta straordinaria Spa e Monza fa culo un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti.